Eccoci qua di nuovo in onda sui disprestiguin, anche via per voi, le sue stile, siamo al De Bain, Piga, Erba, con una squadra tutta a benessere e salute, crei, ma innanzitutto vorrei presentare un grande campione, il nostro grande campione in Italia, Nick. Nick, ci puoi spiegare cosa hai vinto? Perché sinceramente è così lungo e composto, questo nome non lo volevo sbagliare, quindi cos'è Nick? Allora, sono campione italiano di Mepisic, Under 21, ho vinto giovedì a Rimini, quindi alla fiera del Fitness, Rimini Wellness, non me l'aspettavo di questo bel risultato, è stato molto rosso, mi sono accettato. Ma bravo, bravo Nick, facciamo un applauso ragazzi a questo, che è quello che stiamo a sfilare, quindi ragazzi rimandete lì che lo mettiamo a sfilare, tutto il fitness. Chi ce l'abbiamo qui? Lo suo Lucas, lo suo business expert de Jeunesse, giusto? La nostra bellissima esperta più di Stefania, sempre rappresentante Jeunesse, e qui accanto a me è un altro personaggio che lo dobbiamo mettere a sfilare, ovviamente, il coach del fitness. Il wellness coach, il wellness del wellness. Ci puoi spiegare cosa hai vinto? Il coach del benessere, il benessere fisico e psicofisico, che è importante per ottenere qualsiasi risultato oggi. Assolutamente, quindi anche dentro, questa è la nostra lezione. Sì, perché è fisico e psicofisico, mente sana, corpusano, mente sana, corpusano. Ed è importante appunto, siamo il risultato di quello che pensiamo ogni giorno, e quindi lavoro anche su quello. Sono molto buonci, mi occupo delle preparazioni, di portare all'obiettivo tutte le persone che si affidano a me, in termini di dimagrimento, in termini di preparazione, e si fa anche a lavorare su quelli che sono i blocchi, i limiti, quello che accade con la vita a giocatore delle persone. Quindi la nostra lezione di stile non è solo per la psicofisico, eppure ci vestiamo anche, cosa appoggiiamo, che prodotti più fonte utilizziamo, con qualche sforzo dobbiamo fare, cioè tutto, a nessuna. Lezione di stile ci dobbiamo trovare a questo stile. Non puesta venire a te odea, e non lascia più prestigio, alla prossima, ciao!